Rida Mahmoudi, tunisino di 56 anni che il 15 settembre 2020 aggredì e uccise Don Roberto Malgesini, è stato condannato da regastro. I giudici hanno respinto la richiesta della difesa di dichiarare Mahmoudi incapace di intendere volere e di concedere una perizia psichiatrica. Il pubblico ministero aveva sostenuto che l'assassino era consapevole di quello che faceva nel momento del delitto e che questo fosse stato premeditato. I legali dell'imputato sarebbero intenzionati a ricorrere in appello. Don Roberto aveva 51 anni, le sue radici a Cosio Valtellino, paese al quale era molto legato. Venne assassinato a Como nel centro città la mattina del 15 settembre, poco distante dalla parrocchia di cui era collaboratore. Era intento a caricare la sua macchina con cibo e bevande che avrebbe distribuito come ogni giorno ai senza tetto. Il sacerdote Cosiese venne colpito alla schiena con un coltello.